questo video è dedicato a tutti quelli che si svegliano all'ultimo momento a quelli che fanno colazione di corsa e a quelli che vanno al lavoro a quelli che leggono e a quelli che taggano a quelli che vogliono scoprire il mondo e a quelli che semplicemente vanno al lago a quelli che la sera tornano a casa tardi dal lavoro e a quelli che un bacio è meglio di mille parole arriva benvenuti a bordo della vostra vita e da oggi arriva vi mette a disposizione 40 nuovi pullman ancora più comodi e sicuri